Piacere venire in bici insieme a te Paolo sempre da Paolo in preparazione, preparazione volo, scappa da pisciare a sinistra guardiamo se c'è qualche taglietto lo prendiamo però non lo so ma qui sto! oh 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 Oh, 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 attacca! Oh, 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 porca troia! Ragazza! Porca troia! Mi è stato un taglio un po' troppo invasivo all'inizio. Porca troia! Dai, vai avanti che ti faccio un po' di filmato, va? Poi sta a sinistra perché il taglio a destra è troppo brutto, l'ho già fatto una volta è tutto pieno di buchi. Oh, che pesciato! Via, tagliamo, via, basta! Ah, basta, arnello! Vai sotto! Vai sotto! Vai sotto! Vai sotto! Vai sotto! Sì, sì Grazie. 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 Vai, vai, no, ti avverto se ti sorpasso, dai. Grazie. Bello, bello, male. Grazie. Sì, hai il peso sul manubrio. Eh? Grazie. Vai, vai. Aggressive, aggressive. Devi dare il peso. Devi dare il peso, no? Guardaci qua, devi dare il peso giù. Sei avanti. Sei avanti. E dai, beh. Sì. Oddio, la mia batteria va a fincazza. Dai, siamo arrivati quasi. Dai, dopo questo sprint finale, eh. Se ce la dici, c'è. Diciamo, qualche smottamento, tolgono le cose. Sì. Sì. Vai, l'ultimo pezzo è questo. L'ultimo. Via. Sì. dai la discesa è arrivata dai un po' a